Resta in carcere il 37enne Cortonese, finito in manette lo scorso maggio con l'accusa di aver stuprato la moglie. Dopo il primo rigetto dell'istanza di scarcerazione, il legale dell'uomo aveva infatti presentato una nuova richiesta. Ma il giudice del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha respinto anche questa nuova istanza, vista la pericolosità del soggetto e la gravità del fatto. Adesso dunque si potrebbe andare a processo con rito immediato. Nel frattempo il PM Chiara Pissolesi ha chiesto di risentire la donna con incidente probatorio. Il 37enne, che ha sempre parlato di un rapporto sessuale con Senziente, si trova ancora detenuto nel carcere di Terni. Le accuse per lui vanno dalla violenza sessuale, ai maltrattamenti e al possesso di armi. All'interno dell'appartamento nel quale viveva era stato infatti ritrovato un vero e proprio arsenale, 93 armi da fuoco tutte sequestrate nel corso della perquisizione ed una penna pistola con un colpo già in canna. Su quest'ultima è stata disposta dalla procura di Arezzo una perizia balistica che dovrà verificarne la funzionalità, la pericolosità ed infine la regolarità. La vicenda risale allo scorso maggio a scatenare la furia cieca dell'uomo l'aver sorpreso la moglie dalla quale si stava separando in auto con un'altra persona. In un primo momento era così scoppiata una violenta lite sfociata poi in una vera e propria aggressione ed infine rientro a casa dove si sarebbe consumato il terribile abuso.